ciao a tutti amici di security info benvenuti a questo nuovo appuntamento con last week security enterprise come tutte le settimane siamo qui con massimo carlotti di cyber ciao massimo ciao giancarlo buongiorno a tutti e come tutte le settimane commentiamo le news più interessanti a livello enterprise e in realtà anche a livello un po generale di sicurezza della settimana precedente questa settimana partiamo con un tema tostissimo perché è stato al centro se vogliamo di moltissimi attacchi che abbiamo visto nelle settimane passate forse nei mesi passati parliamo di vpn cosa è successo massimo diciamo che in questo periodo come possiamo ben immaginare le vpn sono particolarmente utilizzate nel senso che al via delle normali condizioni in questo periodo le vpn hanno consentito a molte aziende di estendere il proprio perimetro di permettere agli utenti lavorare da remoto questo però ha tirato ovviamente l'attenzione degli attaccanti che si stanno concentrando nel cercare di tirare giù le vpn o comprometterle per riuscire a entrare nei perimetri aziendali e bisogna dire che i bug sono sempre in agguato in qualsiasi strumento utilizziamo poteva mancare in una vpn ovviamente no ne abbiamo commentate diverse piuttosto celebri nelle settimane mesi scorsi questa volta è toccato ai loro a sonicle e la cosa diventa particolarmente rilevante perché si guardano poi i numeri di presenza sul mercato parliamo di un potenziale di 800.000 vpn 800.000 vpn quindi un numero molto importante potenzialmente esposto a questa vulnerabilità tra l'altro con un'azienda che ha un nome importante nel settore quindi non solo 800.000 vpn potenzialmente vulnerabili ma anche 800.000 vpn di cui molte di alto profilo vulnerabili del resto abbiamo visto proprio nelle settimane passate tantissimi attacchi ad aziende che sono andate a segno tramite furti di credenziali vpn causati da bug e addirittura una campagna su agenzie federali statunitensi nelle settimane passate alcune delle quali collegate come al solito alle elezioni presidenziali di questi giorni per andare a segno e portare e andare a influenzare in qualche modo il possibile esito delle elezioni io su questa cosa sono sempre un po scettico perché bisogna capire effettivamente la singola azione quanto può essere importante però nel suo complesso sicuramente un suo peso ce l'ha beh è comunque un indicatore importante di possibile compromissione critica decisamente decisamente e dopo le vpn di cosa vogliamo parlare massimo cambiamo completamente ambito beh direi di sì o meglio si passa dal tecnico a quello che forse più un aspetto legale vogliamo definirlo così però è sicuramente l'aspetto legale sicuramente l'aspetto più interessante di questa notizia vai avanti massimo beh in particolare quello che è successo è che un gruppo diciamo di aziende tra cui microsoft asett simante che hanno provato ad attaccare e diciamo così a tirare giù a disattivare la trip bot che è una delle botnet più famose più attive anche più temute diciamo ebbene diciamo che l'operazione non è riuscita però di fatto quello che si è riusciti a fare e ottenere da questo attacco una sorta di legittimazione all'azione di controattacco o meglio spieghiamo normalmente ci sono dei vincoli giurisdizionali estremamente importanti in termini legali quindi spesso per gli atti mentre per gli attaccanti gioco facile agire in modo così trasversale su tutti i paesi su tutte le geografie per quanto riguarda le difese siano dei vincoli legali che bisogna rispettare allora diciamo che è molto difficile andare ad agire in un altro paese di solito mentre gli attaccanti chiaramente se ne possono fregare allegramente di tutti i trattati e di tutti i cavilli legali perché sono criminali quindi vivono del fatto che infrangono la legge chi deve contrastare queste azioni sa che cosa dove sono i server per esempio ma potrebbe non andare non poter andare a toccarli perché stanno in un altro paese e non hanno la base giuridica per agire in quel paese una cosa che funziona fino a un certo punto perché sappiamo benissimo che poi nel mondo cyber le giustificazioni legali spesso sono molto minori rispetto alle operazioni undercover che vengono effettuate ma questo è importante proprio perché invece è un'azione legale giustificata da un cavillo dell'eola di microsoft mi pare sì di fatto ci si è aggrappati al fatto che molti di questi attacchi appunto sfruttano di fatto delle vulnerabilità o la compromissione della proprietà intellettuale del codice di un determinato produttore e questo permette di reagire e agire rispetto a questa violazione esatto questo quindi vuol dire che questo tipo di operazione diventerà sempre più diffuso il problema che però trickbot non l'hanno tirata giù è tornata su piuttosto in fretta sì però diciamo che comunque gli attaccanti sono stati messi in difficoltà questo già un buon segnale e soprattutto adesso le aziende di diciamo così dovrebbero trovarsi con minori barriere a poter agire perfetto massimo adesso chiudiamo con un tema un po più leggero volevo parlare di una come dire operazione che è in essere ormai da anni e ciò nonostante non si riesce a fermare e ciò nonostante continua a produrre tanti soldi per i criminali di cosa vogliamo parlare beh di fatto quello che è stato fatto è l'ennesimo attacco ai wallet electrum che lavorano su bitcoin e che evidentemente continuano a fruttare fior di risorsa per gli attaccanti in questo caso diciamo che si sfrutta un po la natura dei wallet electrum che servono a gestire conti in bitcoin quindi in buona sostanza gli utenti vengono in qualche modo imbrogliati tramite un'azione malevola che permette agli attaccanti di proporre alle vittime l'installazione di un software che viene ovviamente presentato come un aggiornamento del software stesso una patch di sicurezza e vi discorrendo questo inevitabilmente induce molte vittime a caricare ed eseguire quel software a quel momento in poi ovviamente ci si ritrova con la macchina compromessa il portafoglio dei conti per cui gestire conti bitcoin compromesso e questo inevitabilmente finisce per fruttare molti fondi agli attaccanti sì stiamo parlando di 22 milioni ottenuti in svariati anni e non si riesce a mettere una pezza a questo a questo schema di attacco che è estremamente banale ma estremamente efficace evidentemente beh è un po come il phishing uno di quegli attacchi tra virgolette a bassa tecnologia che però comunque funzionano perché sfruttano un altro punto di breccia che è quello appunto del social engineering la debolezza degli utenti che stanno dall'altra parte quindi la morale è le cose complicate portano sì grandi risultati ma se trovi quella semplice giusta alla fine vivi tranquillo e bene anche se sei un criminale di poco conto va bene massimo io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata ci ti do appuntamento a settimana prossima grazie a voi buona settimana a tutti